una piantina selvatica comune e particolarmente dolce anzi direi un sapore che potrebbe ricordare il gheriglio di noce fresca consumata soprattutto cruda e si deve consumare cruda è la pimpinella o salvastrella una pianta la vedete che appartiene alla famiglia delle rosacee e in effetti osservando bene la sua foglia la sua fogliolina la lamina lentellata è possibile una certa assonanza con la fragola selvatica anch'essa una rosacea ebbene la sanguisorba minor delle rosacee ovvero il nome corretto della salvastrella o pimpinella è una pianta alimentare una pianta preziosa che conferisce gusto a tutte le misticanze ma si tratta anche di una pianta medicamentosa e il nome sanguisorba qualcosa ci deve dire emostatica cicatrizzante assorbe il sangue per questo motivo la tradizione popolare la utilizza non soltanto per cicatrizzare le ferite ma anche per ridurre le copiose mestruazioni ed evitare così una sorta di anemia una pianta perciò con una stretta relazione con il flusso del sangue sanguisorba minor delle rosacee o pimpinella alimentare medicamentosa una pianta che tutti hanno consumato ieri e oggi bisogna tornare a consumarla grazie a tutti Grazie a tutti.